Hey man! Stagione 1 del 5. Ti do la trappola. No, sei inizio di 24. Inizio sigla. Hey man! Yes, yes, yes. Hey man! Du, du, du. Inizio l'episodio. E va bene. Lo faremo domani. Nell'episodio precedente. Cosa? Però non mi dorme di sera. Quasi sera. Che inizio l'episodio. Andiamo. Eccoci in casa. Stiamo per arrivare nella casa di questo. Tutto e solo metti nel condotto. Ok? Ora salta, vola e metti nel condotto. Ok? Alla mia 3. 3, 2, 1. Sono arrivato nel condotto. Adesso cosa dovevo fare? Ah, ecco il computer. Ok, sta qua. Ma è impossibile che sta qua. Tutto attivati. E' un suo scagnozzo. Ci ha fatto la trappola. Ma io lo scordi. Aspetta, cosa? Vabbè. Dividiamoci. Ok. Mi preparo un cuscino. Anche se è un po' stupido. Per difenderti. Ehi. Avrò quanto per andare a Crash? Beh. Forse no. Perché non ne ho? Se forse sì. Chi lo sa. Sei scemo. Ok. 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 Guarda. Sono tornato in casa. Lui che è qua. Fuori. Eccolo. Infatti lo vedo. Vai. E va bene. Continua nell'ultimo episodio della stagione 1. Di Amen.